Quasi 1800 candidati per poco più di 200 posti disponibili. Eccoli gli aspiranti studenti di medicina e chirurgia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro che questa mattina si sono presentati nell'Ateneo per tentare di superare i test di accesso. Sono 1774 aspiranti, 1676 per medicina e chirurgia e 98 per odontoiatria e protesi dentaria che dal 3 al 25 luglio hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso di ammissione per l'anno accademico 2019-2020. I posti disponibili all'Università Magna Grecia sono 210 a cui ne vanno aggiunti 21 riservati agli studenti non comunitari, non residenti in Italia. Ne sono state presentate 15 domande e altri 20 per odontoiatria e protesi dentaria. Rispetto allo scorso anno il numero degli iscritti ai test di accesso registra una lieve flessione. Per consentire un più ordinato svolgimento della prova che come in tutto il paese è iniziata alle ore 11 per una durata di 100 minuti, i candidati sono stati distribuiti in ben 35 aule dell'Ateneo in base alla data di nascita. Nell'avviso pubblicato sul sito dell'Università è stato specificato il divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova e il divieto di introdurre e utilizzare nelle aule telefoni cellulari, tablet, auricolari, supporti elettronici, manuali, testi scolastici e in genere ogni tipo di materiale da consultazione.